Nonna! Nonna apri! Nonna! Mi scusi signore! Mi scusi! Mi scusi! Mi scusi! Sono rimasta chiusa fuori! Devo salire da lì! Lei faccia pure così con le mani! Grazie! Cartamicitini! Tutti gli sms che vuoi a solo 8 centesimi di euro e tanti MMS gratis! E se la pivi entro San Valentino? 40 sms in regalo!